Dovrei aver annunciato il vincitore su Instagram, tra l'altro siete stati tantissimi di avermi iscritto Avrei sinceramente voluto darla a ognuno di voi ma purtroppo ce n'è solo una Per cui l'unica cosa che posso dirvi è che se volete altri giveaway, altre di queste cose, eccetera, opportunità Supportiamo il canale così magari crescendo c'è più possibilità di fare queste cose Comunque, skateiamo, spero, cioè io filmerò tanto, andiamo! Ma quanto è bello uscire di nuovo in felpa, cioè Tra l'altro tavola nuova, finalmente si torna a skateare una tavola italiana E soprattutto fatta bene, leggera e non più enormemente pesante Sono sempre le josele indistrutte, devo cambiarle Oggi Valdo, magari faccio due trick per scaldarmi, non lo so VELOCITÀ Sono pura velocità 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 A거 Perchè sempre tutte ste trike per sti trick di m***a, perchè? E' arrivato Kaste, secondo me Kaste è uno degli skater più forti in town, quindi sono contento di portarvelo sul canale, stavo dicendo che secondo me sei uno degli skater più forti di Torino, capito, capito di chi parlo, di quell'uomo? Allora è arrivato anche Fede, lui è il maialone che ha rotto la tavola nel video, ha cambiato con un'altra Decathlon, vediamo cosa succede, no nel mio video Kaste, quando vi dico che sei contrari, ma tu sei tutto masto! Non so se vi rendete conto quanto siano larghe ste copie, saranno 3 metri? 1, 2, 3, 4, vabbè 3-4 metri! Mado, Sivo! Mado, Sivo! 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 Oh! Sivo! Sivo! Ioooooo! Devi stare tutto dietro! Infatti devo riuscire a pocare! Hai ancora delle caviglie dopo sta roba o? Ma non lo so. Ma adesso è andata. Pongo. Play Doh, per bambini da tre anni in su. Lui è Jacopo Cervelli. Vado tipo la storia qua a Torino. Sentitevi inorati di guardare quello che state guardando. Back to back, ma di cosa stiamo parlando? Io vi ripeto che sono tre, quattro metri di holly e due, tre di flip. E' difficilissimo schitare sta roba, io non ce l'ho mai fatta. Ma cosa stai dicendo? E' tipo il quarto che chiude di oggi, io non sono senza parole. Ma manco me lo immagino di provare un trick del genere. Detto ciò, abbiamo un problema, il mio telefono. Guardate questa clip. Qualcosa di strano? Non lo so, devo andare all'Apple Store perché un problema che avevo già avuto è il comparto fotocamere che fa... Ciao ciao, Luna! Ciao! Già oggi ho fatto parecchia fatica, ho dovuto filmare tutto col grand'angolo perché il x1 e il x3 sono fumati, andati. E non so perché nei vlog deve sempre succedere qualcosa che non va, tipo il dito. Ora le fotocamere, spero si risolva facilmente. Nooo telecamere! Tra l'altro dito sta bene, se ve lo stesse chiedendo. Cioè sta bene, fa un po' schifo da vedere ma sta bene. Che palle! Ciao! Ciao! Noo telecamere! Che palle! Ok! E' neden c'è perché… L'ho chiuso giusto in tempo perché devo scappare alle store vediamo cosa mi dicono raga speriamo perché ci tengo a fare i video no 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 però sono mega contento perché era davvero da un sacco di tempo che non richiedevo così bene ma che c***o fai da Arius